L'associazione dell'archivio storico Livetti ha avuto un ruolo fondamentale insieme alla città di Ivrea per allestire questo importante progetto culturale. Siete soddisfatti? Siamo molto soddisfatti, il lavoro in squadra con i curatori del Museo Civico Garda è stato fenomenale, abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto ricerca storica negli archivi senza i quali evidentemente non sarebbe stato possibile ricostruire la storia di molte opere a partire dall'acquisizione e soprattutto ricostruire le diverse anime di questa raccolta di opere d'arte. Quindi le destinazioni, le funzioni e le figure, i centri, gli uffici dentro la fabbrica che in qualche modo gestivano e governavano la movimentazione e la fruizione e valorizzazione del patrimonio artistico Livetti. Gli archivi dell'associazione archivio storico Livetti ovviamente con archivi intendo una serie di archivi che comprendono quelli dell'attività della direzione relazioni culturali, disegno industriale, pubblicità, l'archivio Renzo Zorzi di cui quest'anno appunto ricorre il centenario che noi abbiamo celebrato, abbiamo ricordato e poi anche i carteggi degli schedari che accompagnano le opere d'arte. Quindi uno scavo approfondito che ci permette di raccontare delle storie e far diventare questa mostra, una raccolta di opere che parla al pubblico, che torna a raccontare i valori della cultura per l'impresa e quindi anche per oggi.